Sempre lontano, ami tutte a modo tuo, ami tutte le donne, sei bello come un Dio. E attenzione, sta per succedere una cosa incredibile, andiamo a seguire, anzi vieni verso il centro, è veramente un momento alto per lo sport coratino e per gli alcolisti anonimi coratini. Un applauso, andiamo verso i nostri protagonisti, Flavio prova a fare qualcosa, scusate vediamo venire un po' qualcuno qui. Vieni Nunzio, seguimi, seguimi, seguimi sempre. Vai Tosti! Mi riprendi la maglia, mi riprendi la maglia? Mi riprendi la maglia, vai! Ci stai a mangiare, ci stai a mangiare. Ci stai a mangiare. Ragazzi, abbassate le ascelle, attenzione. Vai, vai! Non si è capito niente, ma va bene lo stesso. Allora ragazzi, se ne lasce tutti quanti, un applauso, finalmente un trionfo. Il coach putativo parla col capitano, scena. Aspettate, scusate. Che ne pensi di Aldo, il vostro coach? Non ne ho capito. Il vostro coach Aldo, che cosa ne pensi? Ci ha accompagnato per l'intera stagione, giustamente, da salutare ogni singolo giocatore. Mi ha chiesto addirittura la maglietta. Addirittura? Allora, voi siete i più belli della squadra, ce l'ho detto. Non avete veramente paragoni. Eh, bisogna fare un sondaggio. Eh, sta arrivando un altro bello. Resta, è il più bello. Ragazzi, è una grande vittoria. Una dedica a tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito sempre. Grande Virtus. Ale! Lo Iodice, ale! 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 Delirio, delirio, amici. Vogliamo sentire qualcun altro? Eh, vieni a vedere l'immagine dell'amore, l'amore, l'amore. Ah no, soffrò tesoro. Vino, vino, vino. Abbiamo conosciuto sorella, ma oggi è grande Virtus, ale! Abbiamo vinto, sembra. Tossi, tutti i suoi amici erano lì per guardare anche suo padre. Sempre, mio padre è sempre al mio fianco. Anche la mia famiglia, non so, mia madre, mio fratello. Vesteggiamo, vesteggiamo, e ora tutti vedono il Napoli. Eh, l'amore, il tot si dà. Paparella, lei ha vinto il campionato del 1977, cosa ne pensa? Eh, questo è il ritorno a un futuro, eh. Esatto. Ritorno a un futuro. E allora? Sei la sonera di Musto, vai! Gente che passeggia. Che vogliamo ricordare? Coach, vieni qua, vieni, vieni, coach. Oggi puoi dire qualcosa di non serio? Eh, mi ritiro dalla palazza. La canestra è come allenatore. Nel frattempo arriva la... Ma devono mettere altre canzoni? No, penso sia finito quasi. Eh no, stasera. Stasera, stasera. E allora stasera... Il prezzo della festa di stasera. Ok, il prezzo è giusto, grande Musto. Allora, solo per voi, oggi 10... Che canzone è questa? Signora Pina, ma il cotone quanto viene? Allora, il frigorifero Whirlpool, quanto viene lo iodice? 8 milioni e mezzo! Ti sbagli? 7 milioni e 5! Veramente? Aldo, ma quanto costa una penna B? 38 mila euro! 150! 150! Ti vuole girare la ruota! Delirio, gente, continua a suonare. Ora non so più che cosa dire, veramente. Musto? Dove sta? Se n'è andato? È finita qui. Musto, in quadro. È vero. Ah, a proposito, fai vedere l'angolo di lo iodice? Così siamo l'angolo di lo iodice? No, noi ce l'ho scritto questa cosa qua. Si vede? Anche la Virtus ci ricorda così. Musto, vieni qua. Musto, una parola per stasera. Se famo a pezzi! Come sta? Come sta? Ah, E, O! Ah, E, O! Ho detto! Ypsilon! Come stai dalla caduta? Eh? Le stigmate, ho sulle mani. Ho le stigmate. Quanto ho rinnovato per te? 100! E ora salutiamo anche, tra un po' giocano le nostre amiche, che tra l'altro sono pronti anche per la festa, guarda!